Yugi e tutti duellanti ben ritrovati sul canale oggi dopo un po' di tempo lo ammetto scusate siamo qui con un nuovo episodio dove andremo ad analizzare il prodotto in uscita per capire se conviene comprarlo o meno ma detto questo ovviamente prima iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da jackstor il mio sponsor per l'acquisto di prodotto coreano trovate il mio referral link e il codice sconto qua sotto in descrizione inoltre se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokemon, Dragon Ball, One Piece, Force Will e Digimon trovate il link del mio instagram sempre qua sotto contattatemi e mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare vedete questa è tutta merda ritiro anche pile pile di common a patto che ci sia anche roba buona insieme detto questo andiamo a vedere effettivamente cosa possiamo trovare nel nuovo battle of legend ragazzi qua la situazione si fa molto interessante perché comunque bisogna ammetterlo rispetto a ultimi battle of legend questo è di tutt'altro livello diciamo che siamo al livello di blar o blhr mettiamola così e potremo spacchettarlo il 22 giugno quindi indicativamente tra una settimana io partirei un attimo subito col vedere alcune carte nuove non tutte ovviamente mettiamola così quelle un attimo più interessanti poi analizzeremo le reprint e per concludere andremo a vedere effettivamente quali sono le carte più costose almeno in prevendita di questo set allora io partirei subito da Assault Synchron che mi hanno detto essere abbastanza forte e attualmente credo la carta più costosa di questo set ma andiamo a vedere allora durante la tua main phase puoi evocare specialmente questa carta alla tua mano e subisci 700 punti di danno se evochi specialmente questa carta in questo modo non puoi evocare dall'extra deck mostri eccetto mostri sincro se un mostro scoperto drago sincro che controlli è tributato o bandito puoi bandire questa carta al tuo cimitero targettare uno di quei mostri ed evocarlo specialmente cosa molto carina perché effettivamente mi permette di passare sopra carte come nibiru un kaiju il kaiju bambina che si gioca adesso che non è un kaiju ma ok però ha l'effetto di tributare oppure effettivamente tutta la roba che banna che può essere una ryzart o roba simile allora andando avanti abbiamo vabbè roba zark e roba galaxy poi fusione idra che effettivamente possiamo tirarla di super poli anche questa è effettivamente niente male perché i mostri sul terreno dell'avversario che sono dello stesso tipo quindi fusione sincroix si spendono un link dei mostri utilizzati per la sua evocazione perdono attacco pari al loro attacco originale quindi se il mostro ha 2000 perde 2000 inoltre quando infliggo mille o più punti di danno all'avversario tramite questa carta io pesco una carta per ogni mille danni che ho fatto ok è un 2000 quindi effettivamente se attacco un mostro a cui l'attacco è stato azzerato io pesco due carte così a caso poi abbiamo questo sincro triage master che anche questo non dovrebbe essere assolutamente male se questa carta è sincro evocata posso attivare uno di questi effetti in base al livello dei mostri utilizzati come materiale per l'evocazione di questa carta se utilizzo tre materiali posso applicare tutti e tre gli effetti in sequenza allora se il livello è 1 e 5 distruggi una carta sul terreno onesto se è 2 e 4 pesco una carta se è 3 e 3 questa carta è considerata come un tuner e te dirò non è assolutamente male poi cioè riuscire a tirarla con tre mostri cioè e poter tirare tutti e tre gli effetti non è assolutamente da ignorare poi poi questa cos'è? questa è la prima volta che l'ho visto ho pensato fosse un artwork alternativo di uomo al lato della fiammata e effettivamente è così perché è solo lui in un'altra posizione però effettivamente è differente si evoca con due mostri elementali con differente attributo deve essere evocato tramite fusione se questa carta è evocata specialmente posso dare un favorite penso sia una carta magia per evocarlo dal deck o cimitero alla mano inoltre posso tributare questa carta che è stata evocata tramite fusione usando un mostro normale come materiale ed evocare specialmente un mostro di livello 7 o inferiore che non può essere evocato normalmente o posizionato dal mio deck o extra deck ignorando le condizioni di evocazione peccato la limitazione sul livello e sul fatto che deve essere eroe elementale perché sarebbe stato figo tirare un dark law o un acid a caso problema che sono eroe mascherati e neanche absolute zero potrei tirare perché effettivamente è un livello 8 quindi mi chiedo su cosa devo andare a parare per darmi vantaggio nel caso ragazzi se voi siete giocatori di tiro fatemelo sapere qua sotto con un commento allora tirando avanti abbiamo anche questo link sempre mi è stato riferito che era molto buono allora ho appena letto l'effetto tanto per non dire cazzate e ammettiamo che può essere molto interessante perché in primis è un link 1 quindi tirarlo è abbastanza semplice fortuna richiede almeno un cyberso monster se questa carta è mandata al cimitero per un'evocazione link per l'evocazione di un mostro cyberso con attacco 2003 o più posso rievocare specialmente questa carta ma bandiscila quando lascia il terreno quindi effettivamente mi permette di overextendere la combo perché faccio link, questo mi rientra e ho di nuovo il mostro da poter utilizzare per un'altra link poi poi di altre robette carine ci sono i nuovi supporti pendolo che ragazzi io non giocando pendolo non mi accollo i rischi di una cazzata quindi non li andremo a leggere poi poi abbiamo dei supporti rettile così il mazzo degli scacchi ragazzi finalmente sono usciti nuovi supporti e Francesco ha detto che vuole portare la decklist sul canale quindi appena uscirà il set acquisteremo le carte e vi porteremo la decklist poi 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 allora di roba nuova ah parliamo un attimo di azalea che tipo è un link sky ma tipo è generico e va bene per tutti allora praticamente questa carta può essere evocata solo una volta per turno meglio e se questa carta è evocata specialmente puoi targettare una carta sul terreno e distruggerla e fino a qui ci sta solamente che se ho tre o meno carte magie al cimitero mando questa carta al cimitero inoltre una volta per turno all'inizio della magia step se questa carta combatte con un mostro dell'avversario posso bandire una carta magia dal cimitero e distruggere il mostro avversario allora altra carta interessante è shadow of light praticamente l'effetto dice targettare un mostro oscurità che controlli evoca specialmente un mostro luce con lo stesso tipo e livello dal tuo deck o extra deck già è tanta roba puoi bandire questa carta al tuo cimitero durante la tua mind phase in questo turno puoi evocare normalmente un mostro luce oscurità in aggiunta alla tua evocazione normale o settata puoi utilizzare ogni effetto di shadow light una sola volta per turno però non puoi condurre la battle phase in questo turno se attivi uno dei due effetti quindi nel senso carta abbastanza interessante l'unica cosa è che praticamente skippi la battle ma vabbè poi andremo a vedere dove si giocherà allora andiamo con l'ultima carta che mi interessava no le ultime due abbiamo golden rule che come abbiamo già detto nella decklist è la carta che dà un supporto enorme al mazzo crystal beast allora l'effetto dice questa carta è considerata come una carta cristallo e posiziona due carte crystal beast dal deck scoperte nella zona carte magia e trappola e vengono considerate come magia continua inoltre può evocare specialmente un crystal beast dalla mano o cimitero con differente nome rispetto a quelli che sono stati posizionati e se lo faccio equipaggio questa carta al mostro quando questa carta lascia il terreno distrugge ovviamente il mostro diciamo che effettivamente ti dai target per poi tirare l'arcobaleno nel pratico velocizza molto questa cosa allora andiamo adesso all'ultima che è duality altra carta light and dark l'effetto qua dice tributo un mostro luce oscurità evoca specialmente un mostro luce oscurità con lo stesso tipo e livello ma con differente attributo dalla mano o extra deck diciamo più o meno come l'altra inoltre durante la main phase posso bandire questa carta dal cimitero e targettare un mostro luce e un'oscurità nel tuo cimitero miscari nel deck e pesca una carta puoi utilizzare ogni effetto una volta per turno e già rispetto all'altra che fa schippare la battle può essere più interessante soprattutto perché è anche rapida detto questo io adesso andrei un attimo a parlare delle reprinte di alcune carte un po' meme tipo questa e questa che uscivano nell'ultimo animation chronicle se non sbaglio quello dell'anno scorso non sono andato a leggere gli effetti perché non me ne frega niente e forse avrete una lista aggiornata di drago armato ve la butto sempre francesco c'ha queste idee mezze pazze detto questo andiamo a vedere un attimo le vere reprint che sono quelle interessanti ah ovviamente abbiamo anche gli altri supporti sky non li sono andati a leggere perché non me va allora come reprint abbiamo guscio vulcanico carina come carta soprattutto perché effettivamente serviva una reprint per i formati la butto lì poi il dad konami non ci serviva un altro reprint del dad visto che diciamo che gliene hai date anche abbastanza poi una carta che effettivamente finalmente necessitava di reprint e forse secret poteva essere molto più interessante che ultra è aratama carta che è salita di prezzo in una maniera incredibile a causa sua di sakitama in inglese iniziava a costicchiare 9-10 euro in italiano era sceso sui 5 però comunque per essere una rara era veramente tanto adesso l'hanno stampata qua dentro ultra e finalmente abbiamo ammazzato il prezzo sono contento perché le avevo vendute tutte quindi un po' sticazzi poi abbiamo il quick fix che se non sbaglio era la carta che è stata rimessa 2 nell'ultima banned poi abbiamo ibly che comunque ci sta altra stampa secret vabbè tanto esisteva sia ultra da mp che secret da pack e ci sta tanto questa è tutta roba che ragazzi crollerà di prezzo e la comprerete con 3 euro poi abbiamo nessi anche questo secret ci sta sì perché tanto esisteva anche ultra e ammetto che è proprio una bella carta quindi diciamo che sono contento così non sono obbligato a comprarla ad espansione bene passiamo adesso a una carta che mi ha fatto un po' soffri sigma perché effettivamente ne ho un botto da vendere perché la gente se ne è voluta liberare dopo la banned e me sono ritrovato con tanti di questi sigma ovviamente non l'ho pagati tanto però sapete attualmente l'ho vista sul market a 25 centesimi ultra quindi capite che mi fa storce un po' il naso poi abbiamo tutto il reparto punk abbiamo volpina secret che diciamo attualmente era quella più costosa se non sbaglio doveva costare 20-25 euro tutti gli altri punk sono stati fatti ultra però se non sbaglio il sincro amazing dragon anche lui è secret e anche l'orco se non dico cazzate poi abbiamo anche tutto il reparto brave con ami finalmente lo hai fatto anche di una bella rarità grande l'unica cosa è che mi aspettavo che entrambe sia il mostro che la magia venissero messe all'interno di teen visto che era stato annunciato che quel set se non sbaglio il grand creator era proprio era proprio al suo interno a questo punto quello che rimane da mettere è exosister quello sarà all'interno di teen poi abbiamo carota che è stata fatta ultra il nuovo bestial quello di ciak se non dico male no di fotone per nova anche questo l'hanno fatto ultra che ci sta comunque tutti gli altri bestial sono sono super anche se avrei fatto anche lui super poi abbiamo mysterion che questo usciva da liov ultra raro se non sbaglio è stata fatta secret ci sta perché comunque è un altro target di super poli e sempre comodo avercelo perché cambia il meta e cambiano le carte da tirare di su di poli poi abbiamo anche vabbè la carpa che se non sbaglio è ultra poi junk arcer ottima carta finalmente konami ha capito che all'interno dei set devi mettere anche roba edison grazie a dio l'hanno fatto secret esisteva ultra o ultimate da espansione e una ristampa ultra da lc5d se non ricordo male con contento perché effettivamente ha avuto un rarity bump e la gente non si deve più svenare per procurarselo poi abbiamo il dragober cerco di teni anche questo era arrivato a prezzi proibitivi se non ricordo male stava su una ventina d'euro perché c'era non so se secret da espansione no ultra da espansione e diciamo secret dati in mp20 poi abbiamo la magidolce tiramisù anche questa era salita di prezzo perché aveva tipo un paio di stampe una ultimate una ultra no no forse questa era quella era un'altra però comunque l'hanno fatta secret ed è molto bellina stessa cosa numero 92 che se non sbaglio anche lui stava a prezzi proibitivi soprattutto se lo volevate di una rarità carina tipo la ultimate a questo giro l'hanno fatta secret quindi ragazzi consiglio recuperatela soprattutto perché se non sbaglio si tira di numero 100 poi abbiamo l'araldo che si giocava in sprite il digi in combattente sempre sprite questo numero che boh una volta per turno puoi staccare due materiali da questa carta target mosto scoperto che il tuo avversario controllo è una carta magia trappola che l'avversario controlla distruggila ma i danni di battaglia che subisce per il resto di questo turno sono di mezz'aria è un rank 6 e ce sta anche quello se lo volete recuperare recuperatelo poi abbiamo dante secret un po' storcio il naso perché c'è da mp secret e c'è da espansione diciamo ci sta ma ma anche no solo perché sono un ex giocatore di bia e non accetto che venga giocato da ristampa così nuovo poi abbiamo diamond che ci sta l'hanno fatto ultra e tolemaius che l'hanno fatto secret molto bellino zeus anche questo l'hanno fatto secret finalmente così dovrò prendere meno per recuperarli secret visto che i miei l'hanno rubati poi apple usa secret che è bellissima senza senso poi abbiamo buco nero anche questo secret terraforming secret fissure ultra sarebbe stata carina secret super poli secret che ragazzi a questo giro recuperatele perché ve le lanciano proprio all'interno di box ho visto uscirne due cioè quindi vuol dire che playset lo pagherete to 10-15 euro quindi prendetele se non le prendete e risalgono cazzi vossi poi eclipse anche questo secret da recuperare perché può sempre tornare utile l'art art di engage non è questa però vabbè c'è l'art art anche questa secret bellissima poi no vabbè il rito ok lo sappiamo e va bene equation stesso problema di sigma ce l'ho un po' l'unica cosa è che per sigma hanno fatto un rarity bump per questa hanno fatto una rarità inferiore e per concludere vabbè macro ultra e vabbè poi lady labirint l'hanno fatta con il logo del 25esimo stessa cosa l'ubellion che è stato annunciato oggi ah e anche la welcome che se non sbaglio è sia secret che con il logo del 25esimo poi vabbè con il logo del 25esimo ce ne stanno anche altre le andremo a vedere dopo però effettivamente ragazzi come set non gli si può di niente secondo me promosso sotto tutti i fronti se lo volete sbustare cioè allora se volete sbustare qualcosa questa potrebbe essere una buona scelta perché per quanto vi possa andare male nel senso ci rimettete perché la value delle carte è inferiore al costo del prodotto perché va male comunque trovate carte che vi possono servire o nel competitivo o nei retro format quindi alla fine non potete andare via con la mare in bocca perché rispetto a un box di espansione che non ti dà effettivamente niente se non trovi la carta che ti serve qua trovi tante carte generiche che se non servono a te servono a qualcuno nella tua fumetteria o qualcuno in cui ha smezzato il box quindi alla peggio avete roba da scambiare mettiamola così e poi effettivamente rispetto a un box di espansione costa meno allora per quanto riguarda il prodotto una piccola nota se volete esiste anche credo non so se anche da noi la special edition con tre pack quindi nel caso esiste pure quel formato allora per quanto riguarda le singole andiamo un attimo a vedere i prezzi per farci un'idea effettivamente di quello che costa di più e quello che costa di meno allora per adesso come avevo detto c'erano altre carte con logo del venticinquesimo abbiamo mascherena dragormato scuro armad neos quickfish exodide hydra terraformare rito la signora labirinto del castello d'argento tolomeo e basta però considerate che ce ne sono molte di più se non sbaglio sono attualmente 15 o 16 ma vabbè se cercate un attimo su google le trovate i prezzi attualmente sono proibitivi ma ce n'è una caricata ad ognuna vedendo un po' le opening che ci sono state in giro con le anteprime il pull rate dovrebbe essere simile a quello di una collector quindi una ogni due tre box quindi effettivamente questo non può costare 600 euro e questa non può costare 800 secondo me tolomeo potrebbe girarsi sui 30 euro e mascherena che attualmente è la più costosa poi andremo a vedere se potrebbe girare sui 50 60 80 non credo comunque ci sia nessuna che arrivi sui 100 però vi dico queste sono tutte cifre sparate a caso tenendo in considerazione un attimo il prezzo che è stato messo qua ah e una che manca che non è presente è Zeus anche quella l'hanno fatta con logo del 25 stessa cosa anche la trappola labirint se non ricordo male per quanto riguarda invece tutto il resto che è quello che probabilmente interessa anche a voi vediamo la South Synchro che sta sui 30 euro poi non so se è sceso 28 vabbè più o meno siamo lì poi la duality anche questa sarà abbastanza costosa Zeus 15 euro per me è più che onesto considerando che Secret d'Espansione sta sui 35 40 poi Azalea anche questa sui 15 Rito sui 15 ingaggiare 11 cosa che ritenevo abbastanza scontata perché la community di Sky è abbastanza tossica appena gli dai un supporto un'alternative art stanno lì subito se la vogliono comprare e quindi la gente prova a lucrare su queste persone gente tossica anche questa comunque poi abbiamo Shadow Light che sta sui 10 Mascherena sugli 8 l'eroe elementare sugli 8 Armed Neos vabbè sugli 8 ma ragazzi questi sono tutti i prezzi in prevendita è più un modo per capire qual è la carta più costosa del set e quale la meno quindi considerate che Toh Assault Synchro se sta sui 30 probabilmente si stabilizzerà sui 20 sui 15 una roba del genere la duality andrà sui 10 Zeus forse sui 10 non credo meno perché comunque è una carta abbastanza ricercata Azalea secondo me andrà sui 9 8 solo perché è abbastanza generica Iriti sui 7 6 a copia ingaggiare sui 5 cioè tenete un attimo in considerazione cosa è successo con gli altri Battle of Legend cioè il prezzo praticamente di tutti all'inizio è crollato quindi potrebbe essere il momento buono per recuperare la roba poi secondo me si rivaluterà tantissimo questo set come è successo con Blar e BLHCR però inizialmente credo che tutto crollerà più che altro perché ci sono tante carte buone dentro tanta gente lo sboosterà perché effettivamente all'interno c'è roba interessante e il prodotto costa meno di un box di espansione che nel pratico quello costa sugli 80 90 questo costa sui 60 65 mettiamola così to massimo 70 quindi ragazzi voi cosa pensate di fare andrete di singole no comprerete il box sti cazzi fatemelo sapere qua sotto con un commento perché vi dico la mia io molto probabilmente sboosterò due box poi ovviamente con quello che mi manca andrò probabilmente di singole e per quanto riguarda invece le rarity collection aspetterò un attimo dipende molto dal prezzo perché se diciamo le cifre saranno tra i 20 25 euro cad ci sta e credo di comprarle tutte subito ovviamente se i prezzi saranno più alti cosa molto probabile aspetterò un attimo e vedrò nel senso se devo spendere per un lubellion una cifra tipo 60 euro no rimane lì aspetto settembre che lo ripintino quindi che cali tutte ste menate qua detto questo ragazzi state me easy e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti ciao a tutti